In Italia strada tutta in salita per i grandi impianti a fonti rinnovabili schiacciati da ritardi lungaggini autorizzative e contenziosi da una normativa troppo vecchia ed inadeguata ferma al 2010. Non se la passano bene neanche le comunità energetiche nonostante i primi segnali positivi ed anche in Abruzzo si registrano forti ritardi a fare il punto e lega ambiente con due nuovi report. I ritardi dell'Abruzzo sono ritardi condivisi da tutta l'Italia in questo momento sul tema delle rinnovabili sia per quanto riguarda i grandi impianti che per quanto riguarda le comunità energetiche. La transizione energetica è al centro della transizione ecologica e non possiamo più permetterci quindi questo stato di fatto. Per accelerare la transizione ecologica del paese il processo di decarbonizzazione, aggiunto ancora Silvia Tauro, bisogna investire su rinnovabili, grandi impianti, comunità energetiche, reti ed accumuli ma per farlo velocemente bene serve con urgenza potenziare il personale degli uffici delle regioni che rilasciano le autorizzazioni, un riordino delle normative, un aggiornamento e un adeguamento rispetto alla sfida energetica. Il consiglio regionale che avrà davanti quindi il prossimo quinquennio si troverà a dover conseguire quelli che sono gli obiettivi del 2030 per la transizione ecologica. Dieci punti quindi che partendo proprio dalla necessità di completare la transizione energetica senza più incertezze e ambiguità tracciano un percorso di tutti gli obiettivi principali per arrivare quindi al 2030 con la sfida dell'adattamento climatico che finalmente siamo sulla buona strada per vincere. In merito ai dieci punti che Lega Ambiente ha presentato quali le considerazioni a fare? Parlare di transizione energetica e più in generale di transizione ecologica vuol dire ovviamente considerare il cambiamento climatico e l'adattamento ai cambiamenti climatici. È l'occasione per ribadire la necessità di accelerare su questo tema quindi chiediamo alla regione l'istituzione di una cabina di regia che possa attenzionare il tema e tradurre le indicazioni della scala nazionale sui territori regionali quindi a livello locale.